L'appuntamento con il primo canestro per la squadra di Brienza, dall'altra parte Aradori, preso a rimorchio. Che va a partire con la mano sinistra, scarico per Brown, che può tirare fuori anche l'anemometro, ma alla fine non prende il tiro, ne crea un altro per Morgan. E comunque un'altra tripla. Il rimbalzo difensivo è entrato in campo, quindi l'ex giocatore di Brindisi, assist, dietro la testa di Tanep. Palumbo in qualche modo cerca il passaggio che trova invece una palla persa, Williams al quinto tentativo, trova i primi due punti. E poi alza Aradori per Withers, che schiaccia due mani, anche un po' di spettacolo all'Unipol Arena. Una fortitudo versione Meosacchetti che prova a correre ed attaccare in fretta, palla persa, poi recupero della fortitudo e con un po' di fortuna arriva il canestro di Withers. E dà il più 15 alla fortitudo, che dopo il pallone antisportivo ha anche il possesso, tripla presa da Fletcher, che si era visto poco questa sera. Mentre adesso la fortitudo sta dominando. Prova a correre Trento con Sanders, con Raevole, attaccare Hepp, scarico in angolo per mezzanotte. Finalmente un'azione ben costruita dalla Dolomit di Energia. Da dove non trovi il canestro su azione, fa qualche tiro libero. Beh, si aprono le acque attorno a lui. Brown, penetrazione, scarico per Forrai, che prova a prendere la tripla. La mette il capitano dell'Aquila. Dall'altra parte, continua a rimanere al 100% dal campo Pantinelli.